Ciao a tutti qua da Carrubo e siamo tornati in Dante's Inferno Siamo andando da Caronte Sì ok Vai Perciano che sono morti Dove è Beatrice? Face lei un patto folle alquanto Portami da lei la mia vita l'anima per il suo ritorno Tu stolti già nostre sono quelle ecco, ora dobbiamo scalare cos'è là? cos'è? remo di caronte vabbè ah, reliquia vabbè cazzo ci ha scaricato parecchio il fuoco allora qua c'è un puzzle da da fare da saltare là sopra ma prima ok, ci prepariamo non c'è qualcuno da condannare o assolvere allora si, si oggetto scorrevole allora dobbiamo portarlo tipo qua, se non sbaglio metterlo qua poi prendere questa mettercelo sopra e rispingere tutto sotto dove era prima ecco qua ecco qua ok ora ok, saltiamo ci siamo qua mana il vostro immacolato padre ora mi assolve da tutti i vostri peccati può davvero assolvere i peccati senza confessione quest'anno che proteggerai francesco che proteggerai francesco che proteggerai francesco che proteggerai francesco proteggerò tuo fratello come fosse il mio ok questo chi è? orteo lo condanniamo perchè mi serve cosa per condannare se mi serve mi serve ecco qua mi serve un'esperienza per la cosa e vediamo se c'è qualcosa di ottimo da mettere al nostro il nostro attacco ah quella si è la grande questo qua ah ne vogliono 1500 allora ne prendo un altro po' d'anime oh ecco qua le ho prese tutte e compriamo questo qua vai abbiamo più attacchi vai la saliamo e siamo sopra ragazzi eh arrivano le orde proviamo il nuovo attacco è uno due è tre è quattro bam questo è un attacco che ci voleva sono fatto un po' orca orca miseria l'è pieno qua oh 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 e ve ne vai la oglioni fisse dante no c tua c tua mi oh oh quando faccio l'attacco no vai ho preso uno ah ah ho preso un po' di vita però meno male perché mi sono messo un po' male adesso eh ancora no ragazzi ci dobbiamo curare dopo proprio oh cazzo ci dobbiamo curare adesso vai 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 muoviti mamma mia che fortuna stavamo per morire stavamo mi sono salvato in estremis vai vai si ecco non sapeva morire vai il potere di dio e uno e due e tre ma vediamo dove cazzo vuole fa e con te voglio fare il cattivo ahhh ok porca miseriaccia porca un altro di questi o il direi che ho il ah eh no le cose si complicano però dobbiamo farlo attaccare allora vai via vai 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 ne ho manca più attacchi adesso quindi mamma mia meno male che ho fatto l'attacco vai 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 Non ho capito Ho capito ben poco Ancora, 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 ancora Ancora, ancora, ancora Ancora, ancora, ancora E basta Nancia Quanto ti ci vuole Ok Quanto vuole la prima Quadrato, tira anche lo cerchio Sì Olle A metà Ok, siamo di nuovo sulla bestia Perché sono usciti altre orde di morti Che vogliono Non perci il cazzo No, e noi li sfondiamo Literalmente Così Olle 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 Ancora Ce l'è stata Oh Ragazzi E ora La cattiveria più totale Ho sbagliato Ti stacco il capo Dice Dante Tavis 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 Cattiveria totale Fuori campo Ora è difficile Vediamo Vediamo lo fiero Dante Ora è difficile Sembra facile direte Ma No Ok Casca di giù tutto Sa casca giù Mi devo muovere Vai Olle Sa casca tutto Giochi Ehm Na miseria No Ho sbagliato Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo E ripetiamo Na miseria Sta casca giù Vai Ok 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 Risalta Vai Ora Mura quadrato Ok Triangolo Ok Ah no Rotondo del cazzo No ragazzi Sono una schiappa Più totale Ripetiamolo Sa casca giù tutto Na miseria Volevo solo Bucca trento Tu guarda che me tocca fa Me tocca a fuggì Oh Me tocca a fuggì Vai Mo Triangolo rotondo Oh E ancora non siamo salvi Eh Oh Tirerà a cascare giù tutto E un po' Devo spingere un tasto Che non mi ricordo mai Qual è E uscirà velocissimo R1 Lo sapevo No Che pippa Vai Vai casca giù tutto Ci ritocca a fuggì Vai R1 Spacco tutto Oh Meno male Siamo arrivati qua Eeeh Con I fail Di Carrubo Vi saluto E ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Sì Forse c'è qualcosa Intorno a che Tu Che Intorno Che sei Intorno No Se metto questo Non c'è niente Se metto questo Pam No Non è possibile Comincia pure Con il bug No 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 No